La decisione di optare per il Senato, presa di recente, lasciatecelo dire, finalmente da Luciano D'Alfonso, con cinque mesi di ritardo rispetto alle elezioni, sgombera il campo da una situazione politica che si era fatta insostenibile e allo stesso tempo apre una riflessione sul potere in sé e sui doppi incarichi che non di rado e grazie a una serie di piccoli escamotage si riuniscono nelle mani di una sola persona. L'argomentazione principale di D'Alfonso, quella di non aver percepito il doppio compenso di presidente della regione Abruzzo e senatore della Repubblica Italiana, è apparsa sin dall'inizio inconsistente e demagogica. La retribuzione nel mondo della politica non è fatta solo di denaro, bonifici, emolumenti, conti in banca. La retribuzione è nel potere, nella carica stessa che si ricopre, tanto più se quella carica sia rivestita in modo ingiusto, in palese contrasto, se non giuridico, morale, con la norma dettata senza possibilità di equivoco dall'articolo 122 della Costituzione. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una giunta regionale e ad una delle camere del Parlamento. La retribuzione è nei vantaggi conservati, nel diritto di incidere sulla data delle elezioni con il centro-sinistra che vorrebbe ritardare quanto più possibile quella tornata, magari fino alla prossima primavera. La retribuzione è nell'aver modo di preparare il terreno da una posizione di vantaggio. Perché da una posizione di vantaggio di quella portata a riunire in un'unica persona la carica di presidente e quella di senatore, è possibile tessere accordi e alleanze strategiche, dirigere team qualificati di persone, disporre di risorse umane e materiali su vasta scala, piegare un imponente apparato burocratico e organizzativo ad esigenze politiche. Insomma, il potere è, esso stesso, una retribuzione.